Buon pomeriggio a tutti, è l'8 gennaio, sono le 14.00, 14.01 in questo momento, abbastanza preciso anche oggi. Innanzitutto buon anno a tutti, è la prima diretta di questo anno nuovo, di questo 2019 e naturalmente per prima cosa voglio augurare a tutti, voi, a noi e in particolare al nostro paese un anno diciamo così più sereno, più tranquillo, migliore di quello precedente che come sappiamo è stato oggetto di uno stravolgimento del quale poi vediamo i frutti ogni giorno e di questo sono state poi piene le mie dirette in questi mesi e purtroppo temo che anche la diretta di quest'oggi non si distaccherà molto dal, come dire, dal leitmotiv che abbiamo visto negli ultimi tempi. Un governo, quello giallo-verde, che sta a caratterizzando la sua azione per l'incompetenza, l'arroganza, l'irresponsabilità, non so veramente che altro dire e peraltro quello che è più grave non è soltanto appunto quello che il governo sta facendo ma anche le conseguenze che stanno incidendo nella natura, nell'anima, nella cultura del nostro paese, nei rapporti tra le persone, ma insomma speriamo che le cose vadano meglio. Prima di entrare nel vivo delle cose del giorno naturalmente vi ricordo di come era tradizione l'anno scorso e ancora quest'anno di condividere pigiando sulla freccetta condividi qui sotto questa mia diretta. Se lo fate in questo momento ci servirà naturalmente di invitare altre persone che magari si trovano a passare su Facebook e vogliono affacciarsi su questa finestra ma potete condividere anche il video che di questa diretta resterà sia sul mio canale YouTube che sul sito www.ivanscalfarotto.it e naturalmente anche su questa pagina Facebook. Ma veniamo a noi. Notizia del giorno. Notizia del giorno naturalmente la Cassa di Risparmio di Genova, la Carige. Ieri sera come sapete c'è stato questo Consiglio dei Ministri che ha stabilito sostanzialmente l'intervento diretto dello Stato, l'intervento diciamo a garanzia dello Stato su quelli che sono gli asset di Carige e anche sulle eventuali ulteriori esposizioni che dovessero presentarsi in futuro e il governo ha fatto qualcosa diciamo così che io ritengo essere di buonsenso davanti a un istituto di credito che diciamo la cui solidità preoccupa i mercati, preoccupa i risparmiatori, preoccupa le famiglie, preoccupa ai lavoratori. Che cosa dice lo Stato? Ebbene nel rispetto naturalmente delle norme europee, delle norme sulla concorrenza e quant'altro noi non possiamo ammettere, pensare che questo istituto di credito vada a rotoli e che andando a rotoli l'istituto di credito vadano a rotoli i risparmi delle persone che hanno messo lì i loro soldi, delle persone che ci lavorano e naturalmente delle loro famiglie, delle imprese che naturalmente lavorano su un territorio come quello genovese e ligure già provato dagli momenti della scorsa estate, dal crollo del ponte e quant'altro. E quindi cosa fa un governo con la testa sulle spalle? Dice niente paura, niente panico, cerchiamo di trovare una soluzione che sia una soluzione guidata dal mercato, un'acquisizione, l'ingresso nella compagina azionaria di nuovi azionisti, ma se tutto dovesse andare male nessun problema, la baracca la teniamo in piedi proprio per evitare le conseguenze che abbiamo descritto finora, proprio per evitare disastri ulteriori. È una decisione di quelle che io definisco le decisioni necessarie, cioè quello che voglio dire è che quando ci si trova a governare un paese molto spesso ci sono da prendere delle decisioni che non riguardano l'appartenenza ideologica di questo o di quel partito. Se a un certo punto c'è un terremoto, qualsiasi governo si trovi a gestire il paese dovrà riunirsi e prendere delle misure che non saranno né di destra né di sinistra né del PD né di Forza Italia né di 5 Stelle né della Lega, saranno le misure a tutela dei terremotati e a supporto delle popolazioni colpite dal sisma. Quindi ci sono delle situazioni di emergenza nelle quali ci sono da fare delle cose di saggezza che prescindono in tutti i modi dalla tua appartenenza ideologica. E quello è esattamente la questione che questo governo sta affrontando in questo momento, cioè esistono delle situazioni nelle quali non c'è molto da fare tranne che comportarsi saggiamente, che è quello che stanno facendo loro oggi e che hanno fatto con Kerige, ma l'hanno fatto anche con altre questioni. Penso a non aver chiuso l'ILVA buttando per strada 20 mila lavoratori e togliendo l'acciaio all'industria italiana. L'hanno fatto non chiudendo la TAP e quindi consentendoci di diversificare l'approvvigionamento energetico del nostro paese. Lo fanno oggi con Kerige evitando che un primario istituto di credito vada in crisi trascinando con sé risparmiatori, lavoratori e quant'altro. Dov'è il problema allora? Il problema è che ci hanno, come voi sapete, ammazzato il carattere, diciamo, nei mesi e negli anni precedenti quando le medesime decisioni le abbiamo prese noi. Guardate, la rete è piena di interventi di Di Battista, di Sorial, della Castelli che ululavano in aula contro il fatto che gli istituti di credito fossero salvaguardati e fosse evitata la crisi rovinosa che avrebbe appunto coinvolto famiglie, risparmiatori, lavoratori e quant'altro. E oggi si trovano a fare esattamente la stessa cosa. Anzi, possono utilizzare fondi che furono messi a disposizione dal governo Gentiloni, per fortuna, proprio per evitare che appunto la crisi, che può diventare tra l'altro una crisi sistemica. Guardate, già le banche in questo momento con lo spread che è aumentato stabilmente di 120-130 punti si trovano a doversi finanziare con dei costi aggiuntivi e ovviamente il mercato delle banche è sempre suscettibile di contagio. Quindi non è soltanto la questione di Carigia, è la questione di tenere in ordine tutto quello che riguarda il mondo bancario italiano. Peccato appunto che oggi si faccia la cosa giusta, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi con i nostri governi e però peccato che chi oggi prende queste decisioni, quando era all'opposizione, ha fatto di questo uno strumento di lotta politica violento. Io non so come definirlo in altro modo, non è stata una dialettica normale come succede di solito tra parti politiche, è stato un vero e proprio linciaggio quello che abbiamo subito noi quando abbiamo fatto esattamente le cose che vengono fatte in queste ore. E devo dire appunto, lo spiegavo, lo dicevo già prima, questa è l'ennesima prova che quando poi stai al governo devi metterti, devi mettere la testa sulle spalle, dicevo, non si è chiusa l'ilva, non si è fermata la TAP, anche le prospezioni in mare, quelle per verificare se ci sono fonti di energia nel mare Adriatico, nei mari prospicenti del nostro paese, anche lì non si sono bloccate quelle verifiche, il Mise non lo ha fatto, avete letto in questi giorni appunto che anche sulla vicenda, diciamo chiamata Trivelle in modo improprio, il Movimento 5 Stelle ha fatto una retromarcia, però stanno facendo retromarcia su cavalli di battaglia sui quali hanno speculato, ripeto, in modo violento, in modo inaccettabile, in modo incivile e hanno la responsabilità secondo me di aver fatto degradare proprio la qualità del dibattito pubblico nel paese, perché non è stata la loro opposizione, un'opposizione costruttiva sui contenuti civile, magari efficace, ficcante, è stato, ripeto, un linciaggio squadristico che il governo ha subito, penso a quello che ha subito Maria Elena Boschi e le cose che abbiamo visto soltanto pochi mesi fa, veramente fa specie che oggi si prenda una decisione di questo tipo, anche se è la decisione giusta, lo ripeto. Ma ci sono altre cose, perché parlavo di testa sulle spalle, tra l'altro vi ricordo sempre di condividere la nostra diretta, testa sulle spalle fino a un certo punto, perché poi quello che è successo ieri è stata una cosa veramente incredibile, riguarda sempre il nostro amico Gigino Di Maio che ha rilasciato, avete letto queste dichiarazioni che davvero non so come definire di vicinanza ai gilet gialli. Quindi riepilogando, ricordate che è il movimento di protesta che si sta creando a Parigi, quindi riepilogando che cosa è successo che non soltanto un ministro italiano, un primario importante ministro dello sviluppo economico e del lavoro, ma addirittura il vice premier, uno dei due vice presidenti del Consiglio italiano, prende direttamente la parola su fatti che stanno succedendo in un paese vicino e amico, la Francia, uno dei nostri partner storici, i nostri cugini francesi, si immischia nelle vicende interne di un paese amico e alleato e lo fa non per difendere le istituzioni democraticamente elette, che naturalmente possono essere criticate in ogni modo, ma lo fa appoggiando un movimento che, come sapete, sta creando disordini in strada, ruspe, disordini con la polizia, cercando di fomentare, non dirò una guerra civile, perché naturalmente le dimensioni del fenomeno gile-gialli sono comunque contenute, per carità, non voglio dire che ci sia questo, però certo l'intenzione di coloro che organizzano queste manifestazioni è quello di creare disordini a livello di ordine pubblico e di attaccare il governo non con gli strumenti democratici, ma con strumenti violenti. E il nostro, appunto, un ministro italiano prende posizione per difendere e per appoggiare questo movimento che crea appunto il caos nelle strade dei Parigi, che crea disordini e addirittura scontri fisici con la polizia. Io, guardate, davvero non so come definire queste dichiarazioni, perché al peggio evidentemente non c'è limite, però capisco benissimo la reazione del governo francese, immaginate cosa sarebbe successo al contrario. E quello che mi preoccupa è anche l'isolamento nel quale l'Italia continua a trovarsi e immagino che in sede di Unione Europea le posizioni italiane saranno indebolite dal fatto che, diciamo, teniamo questi rapporti di buon vicinato in questo modo così maldestro, per dire, per usare un aggettivo, diciamo così, lieve, ecco, perché si tratta di ben altro. E questo dimostra proprio l'irresponsabilità di queste persone, anche l'incapacità, io penso, l'inadeguatezza, l'incapacità di comprendere anche l'importanza del ruolo che si ricopre, di comprendere quale sia il prestigio delle istituzioni che va tutelato, quali siano i rapporti internazionali, come ci si comporti appunto a livello internazionale, c'è proprio una completa ignoranza, inconsapevolezza, mi viene da dire, è come se guidassero questo autobus chiamato Italia avendo bevuto molto, ovviamente non avendo la patente, ma avendo anche molto bevuto. Questo preoccupa moltissimo. Ma lo vediamo, diciamo, questa vicenda di Di Maio con i gile gialli, l'ultima di una serie di cose, potrei citare, non so se avete letto, ma immagino di sì, questa vicenda dei dossieraggi della ministra Grillo nei confronti degli scienziati, scienziati non valutati sulla base delle loro competenze, della loro capacità di fare ricerca, di produrre risultati a livello scientifico, ma giudicati perché quello ha sposato una magistrata che ha fatto questa cosa, quell'altro ha operato il tal politico, quell'altro ancora è stato, ha scritto un articolo sul giornale e la ministra Grillo invece di valutare, diciamo, le persone che collaborano con lei dal punto di vista scientifico, le sceglie su base ideologica, quindi non importa se siano meno bravi, l'importante è che siano fedeli. Parte il fatto che questo proprio si cozza con l'articolo 33 della Costituzione che dice che appunto la ricerca è libera, anche l'insegnamento dell'arte e delle scienze devono essere libere e non assoggettate al potere politico, ricorda proprio i regimi sovietici, dove si era nell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica non sulla base delle scoperte fatte o delle ricerche portate a termine, ma sulla base della fedeltà al Soviet e la fedeltà al Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Questo è il livello di democrazia che abbiamo. E devo dire che tutto questo, in un momento nel quale, lo dicevo prima, è la qualità della nostra democrazia che secondo me questa gente si porta sulla coscienza, perché poi, guardate, alla fine rialzano la testa anche delle bestie che fino a poco tempo fa erano rimasti al guinzaglio e erano calme perché sapevano di avere intorno un ambiente sfavorevole. Pensate a quello che è successo ai due cronisti dell'Espresso che sono stati malmenati a Roma da appunto esponenti del neofascismo romano, erano andati lì a fare il loro lavoro, documentare quello che stava succedendo a una cerimonia di questi nostalgici e sono stati presi a botte. Io sono sicuro che fino a qualche tempo fa questo non sarebbe successo. Oggi, con un ministro dell'interno, vogliamo parlarne degli ultimi provvedimenti sugli stadi, un ministro dell'interno che dice che non vanno sospese le partite se ci sono cori razzisti, capite che un certo sdoganamento culturale del razzismo non si può negare, perché è oggettivamente così. Nel momento in cui uno sottace o dissimula o sottovaluta appunto l'impatto di una curva organizzata che fa cori razzisti e dice insomma non è niente di grave, non è una cosa molto importante, è evidente che io che ho un odio sullo stomaco nei confronti di persone che sono diverse da me, mi sento legittimato a esprimere quell'odio liberamente, magari passando anche le vie di fatto perché se lo fanno i leader del mio paese, se vedo tutto questo rappresentato in televisione come un comportamento positivo, perché dovrei evitare di farlo io? Insomma questo volando soltanto così andando fior da fiore è un po' la selezione delle ultime cose, come vedete non particolarmente ottimistica, io spero che il mio paese, i miei concittadini si risveglino da questo torpore nel quale sembrano essere, certamente noi saremo qui a ricordare tutto quello che succede, a dirlo utilizzando tutti gli strumenti compresa la rete ma soprattutto anche l'aula del Parlamento dove credo tutti sappiate ci stiamo facendo sentire, ovviamente con i numeri che abbiamo che non ci consentono e poi di prendere le nostre decisioni ma nell'aula del Parlamento è molto importante anche far sentire la voce, la vostra voce, la voce delle persone di buonsenso, la voce delle persone del rispetto, dell'inclusione, del rispetto reciproco, della civiltà che non si pensi che queste voci in questo paese non esistono. Io penso che esistono, penso che siano importanti e proprio per questo voglio ricordarvi che il 12 gennaio, sabato, ci vediamo la città dell'altra economia a testaccio a Roma per la prima riunione dei comitati civici a Roma e nel Lazio e quindi l'appuntamento è per le 10.30 a testaccio alla città dell'altra economia, vi consiglio di arrivare un pochino prima perché penso che ci saranno parecchie persone, ci vedremo poi il 19 a Milano al Talent Garden Calabiana sempre alle 10.30 di mattina e poi ci vedremo il 26 a Napoli in luogo e orario da stabilirsi ma poi vi farò sapere di più. Io vi aspetto quindi a Roma il giorno 12 e nel frattempo mi fermo con la nostra prima diretta dell'anno, sono le 14.17 e oggi ho tenuto anche un tempo abbastanza limitato quello che mi propongo, il mio quarto d'ora giornaliero. Domani siamo in aula quindi cerco di, se posso, di essere online in qualche modo ma insomma torneremo a vederci con una maggiore frequenza ora che sono passate anche queste brevi vacanze di Natale. Io auguro a tutti un buon pomeriggio, io riparto per Roma perché come ho detto abbiamo aula domani e vi saluto e a presto. Ciao!